Dopo il passaggio in Consiglio Comunale siamo riusciti a trovare un punto di sintesi per il quale possono riprendere i lavori di ristrutturazione dell'area complessivamente, il che dovrebbe consentire di valorizzare un comparto estremamente delicato che è rimasto fermo per troppo tempo che ha condotto numerose attività commerciali a trovare sistemazione nel comparto, ma il progetto complessivo che caratterizzava il progetto iniziale non ha mai avuto completamento, con la faticosa opera di mediazione che è stata condotta in questi anni, che ci ha portato inevitabilmente a rinunciare a qualcosa, in nome però di un obiettivo che crediamo sia predominante, siamo riusciti ad ottenere dal Consiglio Comunale un'approvazione che consentirà di riprendere i lavori, spero nei tempi più brevi possibili di ripristinare un'area che attualmente è solo parzialmente utilizzata, però è molto sensibile proprio perché accanto alla stazione ferroviaria con una presenza di varie umanità, se vogliamo definirla così, che ha reso in questi anni un po' difficoltosa la convivenza. Il progetto approvato dovrebbe consentire di portare ordine pulizia, ma poi soprattutto di portare una frequentazione anche commerciale positiva che dovrebbe contribuire a rilanciare l'intero comparto. Per quanto riguarda le cifre? Sulle cifre abbiamo un complesso lavoro di compensazione sostanzialmente riguardo anche ad alcune partite che sono rimaste sospese, la descrizione risulta un po' problematica, diciamo che con una spesa di circa 2 milioni e 300 mila Euro che risulterebbero peraltro incassate attraverso opere di cessione che sono collegate al comparto, noi dovremmo essere in grado di coprire totalmente i lavori di recupero. Questa è la parte in capo all'amministrazione, poi c'è una parte che invece è in capo a coloro i quali interverranno per recuperare l'intera opera.